Sabato 23 e domenica 24 settembre tornano le giornate europee del patrimonio, la partecipata manifestazione culturale promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l'Italia dal Ministero della Cultura. Il tema dell'edizione 2023 è patrimonio in vita ed è un invito a riflettere insieme sul valore culturale di conoscenze, tradizioni, pratiche e modi di vivere ereditati dalle generazioni passate e ancora oggi utili a comprendere il presente e pianificare il futuro. Nelle due giornate sono previste visite guidate, aperture straordinarie, convegni e altre iniziative nei musei e nei luoghi della cultura pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale. Anche la soprintendenza di Salerno e Avellino aderisce all'iniziativa con un ricco programma di eventi ed aperture che interesseranno San Pietro Accorti a Salerno, la Rotonda Neoclassica di Fratte, la Domus del Decumano e il Teatro Ellenistico Romano a Nocera Superiore, il Museo archeologico di Buccino che osserverà un'apertura dalle 19.30 alle 22.30, il Carcere Borbonico di Avellino, il Museo e l'area archeologica di Avella. Aperture straordinarie anche a Padula, la Certosa di San Lorenzo per consentire ai visitatori di ammirare le bellezze del più vasto complesso monastico dell'Italia meridionale, nonché uno dei più interessanti in Europa per magnificenza architettonica e copiosità di tesori artistici. Il 23 settembre sarà possibile visitare il monumento dalle 20 alle 23, mentre il 24 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.